Dopo che ci presentiamo... Andrini, zitto! Amici di Formula Italian Team, c'è stato un po' di parapiglia nel pre-live ma comunque siamo qui con l'ultimo appuntamento dell'anno con la Pro League distanza di gara al 100% al martedì di consueto ormai è diventato il nostro appuntamento io mi presento, sono Andrano Gagnani in arte di Erlong, accanto a me questa sera ci sarà di nuovo Jacopo Rochita J-Sport, ciao! Buonasera a tutti e buona gara! La persona che sentivate prima dire, Andrè, quando ci presentiamo è il buon Andrea Badolato dalla stanza dei bottoni, ciao Andrè! Faccio mia colpa e mi dispiace No, anche perché io ti avvertivo con un suono culturale Hai ragione, hai ragione, perdonatemi, è il bello della diretta Siamo sempre in live E se la settimana scorsa l'abbiamo definita la coppia che scoppia questa sera non si sa, la coppia rovente la chiamiamo perché c'è anche il buon Marco Luconi Fitmark 17 Buonasera a tutti Molto bene, siamo qui sul circuito intitolato al mitico Gilles Villeneuve Con i suoi 4.361 metri Siamo a Montreal nel Canada Abbiamo già visto scendere in pista qualche vettura con Birillo Dog che per il momento sta capeggiando le qualifiche quando mancano 9 minuti e 40 secondi al termine in 1.8, 816 Seconda posizione per Drago Llevitato che precede per i 30 millesimi Just Loller, poi Advance Apple, Lele Salva, Marco Ghanu, Dadoizzi, Alessi, Michemai Cartista, John Rambo che ovviamente non potrà disputare le qualifiche per una perdita di punti licenza nello scorso GP e poi Mauro Gold, Zeta Pro Mauro e Mr. X Jay, io non so se hai seguito le ultime avvicennamenti che ci sono stati in Pro League ma abbiamo visto sicuramente Arriviamo qua in Canada con un Just Loller che si deve ritrovare dopo i 4-0 consecutivi e un Drago Llevitato, Birillo Dog, Dadoizzi, Advance Apple che iniziano a diventare un po' più consistenti Cosa ne pensi di questa sera? Cosa potrà accadere? Diciamo che probabilmente questa sera potrebbe essere il vero primo turning point del campionato insomma, diciamo che vedremo una gara molto molto particolare soprattutto perché, non vorrei spoilerare, ma credo che non vedremo queste condizioni in gara quindi cambierà un po' tutto e forse anche questa è una delle ragioni in cui vediamo i tempi molto alti rispetto a quanto si vedeva nelle prove e io mi aspetto che questo sia un nodo cruciale del campionato della Pro di quest'anno Eh sì, anche perché Mauro Gold fa segnare 1-8-987 si piazza nella ristretta cerchia di 4 piloti che hanno sfondato il muro dell'1-9 quindi vedremo cosa succederà con l'ultimo stint perché vedo tutti su gomma soft quindi questo potrebbe far pensare che la pista diventerà bagnata in gara Di pure, Jay No, il cartista ha fatto in questo momento il miglior tempo in 1-8-7 sì, la gara credo da quanto ci dicono gli insider sarà bagnata i tempi sono alti sicuramente perché qualcuno avrà provato a caricare un po' la vettura in vista delle condizioni che poi si andranno a trovare durante i 71 giri del Gran Premio canadese sarà una qualifica molto strana perché sono tutti molto vicini possono inserirsi anche degli outsider uno di questi cartista che in questo momento si è messo in polvo Eh sì, anche perché comunque bisognava studiare un po' l'assetto all'inizio si parlava di assetti scarichi su questa pista chi prediligeva gli assetti carichi quindi questa pioggia tra virgolette può livellare un po' le decisioni sull'assetto si vedrà cosa succederà in gara intanto arriva una comunicazione di servizio dal coordinamento che purtroppo Giovi aveva chiesto se era possibile entrare in qualifica in corso ma per un impegno non potrà neanche partecipare alla gara per problemi lavorativi quindi non ce la farà a partecipare alla qualifica e quindi l'Alfa Tauri di Drago Lievitato perde il suo compagno di squadra quando va a far segnare un grandissimo tempo perché sta togliendo 284 millesimi dal suo tempo andiamo a vedere perché intanto Advance Apple si è migliorato 1-8 773 secondo l'Alfiere della Ferrari arriva Drago Lievitato uh molto vicino al muro dei campioni Zeta Promauro Zeta Promauro 1-8 247 Drago Lievitato 1-8 478 quindi iniziamo iniziamo a far scendere i tempi vediamo intanto Just Loller arriva con 1-8 698 97 viene segnato 98-97 soliti bug quindi terza posizione per la Williams di Just Loller andiamo a vedere se c'è qualcun altro Birillo Dog molto molto alto il suo primo settore penso abbia abortito il giro vediamo Marco Ganu che tutto sommato aveva perso un decimo e mezzo dal suo secondo settore andiamo a vedere se si migliorerà no vai Box Alessi toglie 4 decimi nel T1 quindi andiamo a vedere no scusate è arrivato adesso era 4 decimi in giro precedente adesso 27 millesimi al T1 tolti per Alessi quindi tutto sommato in linea con i suoi tempi arriva staccata di curva 8 tante chicane che caratterizzano il circuito Gilles Villeneuve poi tornantino e ci si lancia verso un lungo rettilineo che porta poi alla fine all'ultima chicane dove è presente il caratteristico muro dei campioni Wall of Champion dove più o meno tutti i più forti si sono stampati andiamo a vedere Alessi che si lancia arriva in questo momento Vai Box Vai Box da Doizzi due decimi sopra al primo settore quindi penso che tutti i piloti in questo momento si prepareranno per l'ultimo stint delle qualifiche L'Ele Salva sarà il primo a a fare all'iniziare l'ultimo stint di qualifica credo che l'Ele Salva sia uscito così presto per fare forse due tentativi con questa gomma per cercare di migliorare il suo decimo tempo piloti che almeno i primi credo che siano con un setup praticamente da asciutto perché comunque i tempi sono molto competitivi soprattutto Z Pro Mauro e Drago Levitato gli altri ancora qualche beneficio del dubbio ma credo che un po' tutti sono andati molto scarichi in questo momento e quindi avranno una configurazione più o meno da asciutto anche sul tracciato bagnato che poi si svilupperà durante il corso della gara Vediamo perché L'Ele Salva è arrivata adesso al primo settore alzato di un secondo e quattro quindi penso che si rilancerà il pilota della Racing Point e potresti aver ragione tu Jay andiamo a vedere chi sta uscendo in pista JustLol il kartista Mauro Gold che si lancia in questo momento poi c'è anche Marco Ghanu andiamo a seguire la McLaren di Mauro Gold andiamo in on board sono tutti usciti molto presto comunque quindi molti furasi che probabilmente faranno due tentativi magari abortiranno il primo giro per poi tentare di spingere il secondo così non la pensa Mauro Gold 87 millesimi sotto al suo primo settore andiamo a vedere andiamo a vedere la vettura arancione cosa farà curva 8 e curva 9 altra chicane poi ci si lancia verso il tornantino andiamo a vedere sulla fotocellula 155 millesimi si migliora anche nel secondo settore Mauro Gold andiamo a vedere cosa quale sarà il suo tempo poi andremo a seguire Marco Ghanu è cartista anche in realtà anche Lele salva che in questo momento ha del traffico davanti quindi ritorniamo su Mauro Gold ultima chicane per lui eh sì è stato veramente molto molto bravo e reattivo Mauro Gold 1'8 774 si mette stesso tempo per Advance Apple e Mauro Gold incredibile al millesimo addirittura andiamo a vedere che è cartista o Marco Ghanu mi pare cartista ma cartista penso si rilanci come hai detto tu prima stessa strategia in casa Racing Point quindi andiamo su Marco Ghanu Lele salva invece sta arrivando sul traguardo dopo aver rallentato il primo giro vediamo un po' se si migliora il pilota della Racing Point ottava posizione per lui attenzione si migliora Lele salva scavalca Marco Ghanu ma a sua volta Marco Ghanu arriva in 1'8 824 e si porta in ottava posizione di stacchi minimi a parte il solco che ha scavato Zeta Promauro in 1'8 247 che stanno uscendo in pista i primi tre anche anche Birillo Dog Alessi Dadoizzi tutti in pista Birillo Dog in questo momento va ad affrontare il suo giro andiamo a vedere il primo settore e il pilota Red Bull molto preciso finora Birillo Dog arriva 14 millesimi è tutto sommato in linea perché 14 millesimi non sono tanti si dica Advance terzo Advance terzo 1'8 615 molto buono il pilota Ferrari l'abbiamo visto molto molto sportiveggiante utilizziamo un termine caro a tutta la community che negli ultimi cartista 1'8 568 scavalca per il momento in top 3 Advance Apple andiamo a vedere Birillo Dog 82 millesimi poi vediamo Just Loller uh Drago si è girato Drago si è girato in uscita di no no colpo di scena eh si mentre oh c'è una una Mercedes attenzione è firmo in questo momento perché stava stava passando Zeta Promauro mi pare Miche Mai e Drago perché Miche Mai se l'è ritrovato in faccia praticamente Drago lievitato Birillo intanto si è migliorato ma rimane in settima posizione Zeta Promauro sta cercando di migliorarsi ha in ritardo nel suo tempo di 20 millesimi ma comunque è in linea con il suo tempo non vedo però altri piloti che possono impensierire la pole di Zeta Promauro si Zeta Promauro va benissimo attenzione perché JustLollar arriva sul traguardo 1-8 817 non si migliora vediamo Birillo toglie ancora 122 millesimi Zeta Promauro toglie ancora Zeta Promauro 1-8 228 pole position per il pilota il Drago lievitato ovviamente abortisce andiamo a vedere il cartista anche lui Birillo si sta migliorando eh si Birillo ha fatto un secondo giro lanciato quindi andiamo a vedere come cosa succederà arriva sul traguardo il pilota della Red Bull 1-8 601 1-8 600 questa sera siamo desincronizzato tra miglior tempo tra la grafica del datigiro e e la classifica quindi 1-8 e 600 per Birillo Dog si piazza in quarta posizione il pilota Red Bull scalzando Advance Apple che rimane in top 5 poi Just Lawler in sesta posizione andiamo a dettare la classifica quindi con Zeta Promauro in prima posizione in seconda posizione per Drago lievitato quindi una prima fila diciamo molto scoppiettante vedremo cosa succederà poi in gara terza posizione per la Racing Point di Cartista in 1-8 568 poi Birillo Dog Advance Apple a chiuderla top 5 poi Just Lawler Mauro Gold Marco Gano Miche Mai e Lele Salva a chiuderla top 10 poi Alessi Flaminio Dadoizzi John Rambo e Mr. X quindi eh questa questa pioggia in gara potrebbe scombussolare un po' i piani di tutti diciamo perché tutta la gara non l'abbiamo ancora vista Jay quest'anno se non mi sbaglio almeno in Pro League tutta la gara non l'abbiamo vista l'abbiamo vista forse in Prime ma quella era da full wet come si approccia a una gara tutta bagnata ma allora di solito non si tende a preparare una gara bagnata di solito si tende sempre a preparare solo la gara in asciutto la gara bagnata la cerchi un po' di interpretare durante l'arco dei giri che fai eh personalmente io per esempio quando cerco di preparare una gara bagnata in gara cerco di sfruttare soprattutto il giro di ricognizione per trovare punti di staccata punti di staccata che cambieranno cambieranno anche il modo di approcciare soprattutto le accelerazioni perché ci sono tante comunque ripartenze eh credo che comunque lavoreranno tanto le posteriori quindi potremmo vedere addirittura due soste con le intermedie per la maggior parte dei piloti qualcuno rischierà sicuramente l'unica sosta dipende molto dal ritmo gara sarà molto interessante sicuramente chi parte davanti ha un bel vantaggio perché comunque può scegliere le linee può dettare il ritmo chi parte dietro avrà comunque delle sue difficoltà perché sul dritto qua è difficile comunque passare e non sarà facile bisogna evitare soprattutto i muretti molto facili e poi soprattutto in queste condizioni è molto facile che il posteriore ti lasci verso il muro intanto vi do qualche statistica mentre che aspettiamo che le macchine vengano posizionate per il giro di formazione in questo momento la classifica della Pro League recita così tre piloti in un solo punto con Drago Livitato che ha guadagnato ha ripreso la vetta della classifica provvisoria a 97 punti poi Just Loller da Doizzi a 96 Mauro Gold a 85 Z Pro Mauro a 73 Birillo Dog ultimo vincitore aveva vinto a Baku con una straordinaria gara a 69 poi Flaminio Advance Apple Mike Mai Marco Gano Alessi e Giovi è una classifica molto corta quindi vedremo cosa potrà succedere questa sera in un circuito che come hai detto bene tu Jay è difficile sorpassare perché c'è un lungo rettilineo no ma quest'anno già è stato tra virgolette neutralizzato se vogliamo il vantaggio che si aveva l'anno scorso seppur minimo con l'ERS modulabile e qui però non c'è essendo la pista bagnata non c'è il DRS quindi i sorpassi dovranno essere conquistati e molto molto sudati dai piloti si molto sudati poi comunque con lo spray che alzano le vetture non è neanche facile guardare bene il punto di staccata o eventualmente anche il punto di corda è facile perdere il punto di corda in inserimento e quindi poi dopo in accelerazione quando poi dopo vai a richiamare il gas lo richiami molto più lentamente quindi hai più difficoltà poi dopo di scaricare tutta la potenza sarà interessante capire chi approcerà bene i primi giri perché credo che la differenza lo si farà veramente nei primi dieci giri e i piloti che sapranno subito andare più forte degli altri in queste condizioni poi possono garantire un bel margine da poter gestire occhio safety car e virtual safety car che qua in queste condizioni con questi muri è molto probabile intanto la strategia prevista dal gioco ci dice che ci sarà almeno una sosta quindi vedremo come se la giocheranno i piloti in questo momento in pista c'è da dire che comunque Jay tu lo sai molto bene il pad tra virgolette una mano te la dà in più sul bagnato con la trazione ovviamente bisogna essere capaci quindi secondo me l'unico che potrà giovarne da questo può essere Justin Holler quindi attenzione perché lui è paddista te la può dare ma te la può anche togliere perché in una pista di trazione le posteriori si scaldano tanto e potrebbe soffrire per primo di usura delle posteriori eh sì quindi ovviamente ci sono tutti i pro e i contro dei device che si vanno ad utilizzare mentre le macchine stanno per posizionarsi tutte sulla griglia di partenza mancano John Rambo e Mr. X che stanno arrivando là in fondo ed è tutto pronto per questi 70 giri del circuito Gilles Villeneuve in Montreal Canada ultimo appuntamento dell'anno per la Pro League eccoci qua è tutto pronto si accendono le luci 3 4 5 e parte il GP del Canada attenzione perché è un fattore chiave la partenza buono lo spunto di Z Promauro anche Trebbe gli ha invitato che arriva molto vicino arrivano tutti molto vicini addirittura 3 macchine a imbeccare curva 1 abbiamo visto nelle retrovie tutto sommato sono stati molto puliti tutti i piloti non ho visto Flapp volare speriamo non ce ne siano stati di danni in curva 1 e 2 per ora si sembra tutto di volare per ora si per ora si sembra tutto legonale quindi bravi ai piloti della Pro League davanti Z Promauro tenta di fare subito il vuoto su Drago Lievitato e anche Cartista che aveva sfiorato in staccata di curva 1 il posteriore dell'Alfa Tauri di Drago Lievitato attenzione Alessi Alessi su Michemai si prende l'ottava posizione il pilota della Ferrari vedremo cosa potrà fare in questo momento andiamo a vedere se succede qualcosa là davanti perché sono tutti molto vicini c'è Birillo Dog su Cartista si fa vedere però poi decide di rientrare in traiettoria e anche perché Cartista Z Promauro sta andando e Cartista si sta distaccando da Drago Lievitato e c'è un trenino incredibile dietro di lui si diciamo che Cartista probabilmente sta soffrendo un po' visto che ha sbagliato la prima staccata ha quasi rischiato di rompere il flop quindi adesso è molto giudizioso John Rambo John Rambo cattivissimo in entrata di curva 1 passa da Doizzi si porta in undicissima posizione alle spalle del suo compagno di squadra tanto sono già due secondi e due tra Drago Lievitato e Cartista in difficoltà Cartista soprattutto quando apre gas già due tre volte che vedo la sua macchina scomporsi attenzione Advanza Muro oh no che peccato no colpo di scena Advance Apple ritirato al secondo giro Virtual Safety Car perdiamo una Ferrari ad inizio ad inizio sessione peccato è quella comunque anche sull'asciutto è una pista dove il posteriore si alleggerisce tanto e e ti fa ti fa quello scherzetto lì di proprio iniziare a perdere trazione al posteriore e portarti verso il muro interno bravo e questa cosa sull'acqua amplifica ancora di più tant'è che come avevamo visto già da Cartista è facilissimo oh Drive Thru per Cartista per eccesso di velocità John Rambo intanto Dadoizzi ha passato John Rambo ha passato Dadoizzi che non se lo aspettava si è girato Dadoizzi ne vedremo delle belle perché comunque è molto difficile per i piloti trovare il ritmo facilissimo perdere la macchina di posteriore in questo momento Z Pro Mauro sta interpretando la grandissima la situazione sta gestendo bene tutte le variabili soprattutto è quello che vedo più a posto in uscita di curva molto dritto con la macchina accelera prima da più potenza e lì guadagna tantissimo su tutti i suoi reversari primo su tutti Drago Levitato Flaminio intanto su Lele Salva che forse ha avuto un errore ha bucato ha bucato ha bucato Lele Salva ecco perché appoggiamo sul muro gomma anteriore destra gomma anteriore destra bucata per Lele Salva è anche questo che non avevamo detto prima le forature qua sono veramente dietro l'angolo perché basta toccare con un pochettino più di vehemenza un un muretto che si può forare l'abbiamo visto anche tante volte nei GP reali quindi procede veramente molto molto cauto Cartista va a scontare il drive through mentre Zeta Promaro fa segnare il giro più veloce della gara in 1.22 521 io vi ricordo in questo momento che è possibile accedere al live timing sul nostro sito basta registrarsi su www.formulaitalianteam.com per avere un quid in più nel seguire la gara con tutte le statistiche tutti i danni tutti i passi tutti i settori quindi andate a registrarvi e potete usufruire di questo piccolo upgrade piccolo via molto bello questo upgrade portato quest'anno dicevi Iaco prima che io iniziassi a dire questo no nettamente in questo momento Zeta Promaro sta andando via rispetto a tutti gli altri la cosa fondamentale è capire i piloti come gestiranno bene le gomme perché comunque si può fare una sosta però devi gestire molto bene il ritmo perché la gomma comunque comincerà a calare nei giri che passerà e alcuni piloti potrebbero pensare anche di fare due soste quindi spingere tanto montare due volte le gomme intermedie e poi arrivare fino in fondo in questo momento comunque vedo un Zeta Promaro che se ne va proprio soprattutto in uscita di curva il Drago comunque è l'unico che riesce a resistere un po' ai suoi tempi dietro Pirillo lo vedo più in difficoltà con Just che sta prendendo ritmo quindi credo che vedremo una bella lotta per il terzo posto e si appunto Just è il pilota che al minor distacco insieme intanto tre secondi di penalità per Giornambo dicevo al minor distacco insieme a Flaminio proprio sul pilota McLaren 7 decimi per Just Loller 7 decimi anche per Flaminio quindi andiamo proprio a seguire il pilota Williams su Pirillo Dog che per il momento ha preso un pochettino di margine ma Just Loller deve tentare di sorpassare un veloce e costante Pirillo Dog per tentare poi di andare a riprendere il suo diretto rivale per il mondiale ricordiamo che sono tre i piloti in un punto con Dragoglio e Vitato che capeggia la classifica provvisore della Pro League a 97 poi Just Loller e Dadoizzi a 96 ma Dadoizzi purtroppo ha avuto un piccolo un piccolo malinteso ed è scivolato in tredicesima posizione 6 decimi di trazione qua ne ha veramente tanto di più andiamo a vedere Just se tenterà un attacco forse su Pirillo Dog che comunque ha ripreso ritmo anche lui perché a 3 secondi 1 adesso Pirillo erano a 3 secondi e mezzo se non è invaderato su Dragoglio e Vitato sì Pirillo ha preso ritmo più che altro l'ha perso Dragoglio e Vitato scusa Flaminio attenzione no John Rambo vai box era molto molto vicino il pilota Williams ha perso Dragoglio e Vitato secondo te sì perché nell'ultimo giro se non ero ha perso quasi 7 decimi nei confronti Zeta Pro Mauro si è fatto guadagnare qualcosa da Dragoglio e Vitato il più veloce in pista sembra ha la rotta ha la rotta per Dragoglio e Vitato ecco che Crive dalla chat ci scrive subito questa notizia ha la rotta per il pilota Alfa Tauri quindi questo questo pregiudica la sua prima parte di gara e lo stint come abbiamo detto prima è molto molto lungo mamma mia e si vede tanto il sottosterzo comunque non sta perdendo tantissimo da Birillo ma sta perdendo tantissimo Zeta Pro Mauro che in questo momento ne ha di più di tutti non c'è niente da fare 6 giri compreso comunque anche un mezzo giro di Virtua Safety Car ha già 4 secondi di vantaggio ma è l'unico che sta girando con un passo veramente costante sul 22 basso mentre per esempio Dragoglio e Vitato gira sul 22 alto 22 e mezzo invece per Birillo Dog quindi in questo momento la differenza sta facendo il pilota eh si 2 secondi e 3 2-2 continuano a scendere i secondi anche Alessi comunque ha ripreso Marco Ganu Michemai si è un po' staccato sì Alessi lo vedo molto bene perché ha fatto già qualche sorpasso inizio gara è andato a riprendere Marco che in questo giro è molto in difficoltà e credo che se supera il pilota della As potrebbe addirittura poter pensare di ricongiungersi col terzetto che si unirà per il secondo posto perché Drago in questo momento sta perdendo tanto nei confronti di Birillo e Giasta e credo che verrà riassorbito a breve intanto dietro nelle retrovie Flaminio sta cercando di prendere il ritmo ha staccato Cartista ha 4 secondi e mezzo su Mauro vedremo anche lui come andrà con queste gomme intermedie un Mauro che ricordiamo dovrebbe essere la prima volta se non erro poi corregimi se sbaglio ma è la prima volta che guida sul bagnato col volante quindi esperienza nuova anche per lui mi sono perso il nome chi era? Mauro Gold credo credo di sì secondo me il buon Andrea l'altro Andrea lo saprà non è Marco Cano ti anticipo che non è Marco Cano sì dovrebbe essere non so se la prima onestamente perché è il primo campionato che fa col volante questo sì quindi sì dovrebbe essere la prima col volante per Mauro molto bene siamo all'ottavo giro di 70 previsti quindi 62 giri al termine 62 giri di emozioni per questa Pro League andiamo a vedere come si muove un secondo e due un secondo e due gli sono addosso a Drago Lievitato sia Birillo che Just Loller attenzione perché Birillo che Birillo scusami Andrea ma è quello che adesso più veloce di tutti ha girato 22 a 1 quindi definitivamente sta prendendo ritmo il pilota della Red Bull il problema è che adesso dovrà superare Drago che sicuramente non si farà passare attenzione colpo di scena perché Drago Lievitato sul live timing non mi segna è quello che stavo cercando non mi segna un un danno all'ala ah ah ecco no c'è stato un misunderstanding tra il buon Kribe che aveva scritto e me ma era Joe Rambo che aveva la rotta quindi è andato ai box e comunque questo rende ancora più inspiegabile come tutto ad un tratto Drago Lievitato abbia perso praticamente due secondi perché sottosterzo sottosterzo ne ha tanto io sono andato anche on board non vorrei abbia sbagliato il setup il buon Drago beh più che altro sicuramente prima aveva un setup molto d'asciutto perché i tempi erano molto competitivi e si potevano fare tranquillamente per chi viaggiava sull'asciutto quindi credo che sia comunque un setup molto estremo da quella parte lì ma non credo che sia fondamentalmente il setup il problema io credo che probabilmente ha sbagliato qualche curva ha perso fiducia e comunque per ritrovare fiducia sul bagnato devi passare almeno qualche giro quindi sicuramente è andato un po' in crisi adesso però sembra comunque migliorare perché ha fatto 22.6 che non è male eh si aveva fatto due giri sull'1.23.0 1.22 alto quindi vediamo se magari il fatto di vedere sempre incominciare a vedere la sagoma più nitida della della Red Bull di Birillo Dog negli specchietti non gli abbia dato quello stimolo per iniziare di nuovo a spingere altro pilota in difficoltà Andrea è Marco Gano che lui ha perso completamente contatto dal terzo settolo davanti e si sta facendo raggiungere primis dall'esima anche Mickey Maes è fatto sotto e occhio perché sta arrivando pure Mauro Gold eh si sta intanto Just Loller 1.22 0.91 fa segnare il nuovo giro più veloce della gara inizia a farsi intravedere il pilota della Williams sta sfruttando il traino di Birillo che sta girando molto bene ha voglia è molto pulito ottimo traino molto pulito anche perché non ho visto tante sbavature dal pilota della Williams ci vorrebbe una gara così che gli ridia fiducia dopo come dicevamo in apertura di Telecronaca dopo i 4-0 consecutivi che hanno praticamente annullato il distacco che aveva creato Just Loller sui suoi diretti avversari tanto attenzione bloccaggio ho visto Drago lievitato andare abbastanza lungo al tornantino infatti ha perso 4-10 mi solo lì occhio eh perché Birillo Dog si è portato a mezzo secondo eh Drago è in difficoltà soprattutto in frenata ha perso probabilmente ha fatto qualche errore ha perso completamente fiducia nell'anteriore inserisce molto tardi molto sottosterzo quindi quando poi vai a fare il cambio di direzione la macchina fatica di più poi in condizioni di bagnato non parliamo che è molto importante essere precisi quindi Drago in questo momento è veramente sotto pressione e credo che Birillo deve cercare di bucarlo subito perché il suo ritmo è quanto Z Pro Mauro ma se rimane dietro il pilota a Fatauri per lui la distanza dal pilota di testa comincia a farsi troppo elevata e come là davanti Marco Ghanu ha ripreso un pochettino di gap su Alessi un secondo il distacco per adesso sul pilota Ferrari ma dietro è avvenuto il contatto Michemai è di nuovo attaccato ad Alessi e Mauro Gold dietro di lui quindi attenzione Flaminio intanto nono a 6 secondi e mezzo buono Mister X undicesimo per il momento tutto sommato se la può ancora giocare per la top 10 attenzione perché Birillo Dog intanto è vicinissimo Birillo ha fatto una grandissima staccata perché ha staccato anche Just Loller con la frenata al tornantino Sì anche perché comunque sotto l'acqua è molto difficile comunque provare un attacco perché arrivi a un certo punto che non vedi e magari perdi anche il punto di riferimento quindi se devi provare l'attacco devi essere veramente convinto perché se no praticamente rischi di rovinare tutto andando addosso al tuo avversario e non è facile poi senza DRS utilizzando solamente l'ERS che però possono utilizzare tutti quanti alla stessa medesima velocità e potenza è molto difficile passare la vettura che ti precede soprattutto perché sul bagnato ricordiamolo l'utilizzo dell'ERS viene molto meno utilizzato nelle curve quindi ce n'hai moltissimo sui retellini quindi tutti i piloti sparano tantissimo ERS sul dritto intanto attenzione perché Miche Mai si fa molto molto minaccioso negli specchietti del pilota Ferrari Alessi l'abbiamo visto in live scodata di Alessi intanto l'abbiamo vista in live farsi vedere con Alessi proteggere l'interno alla staccata dell'ultima chicane è già la seconda volta che gli arriva due tre decimi in fondo al rettilineo vediamo se questa volta potrebbe essere il giro il giusto per tentare un sorpasso vediamo un po' anche perché comunque Urca adesso Urca è uscito è uscito veramente scodando all'impazzata Miche Mai infatti ha perso tantissimo in trazione infatti Alessi non deve neanche tentare una difesa invece Just Loller è arrivato molto vicino a Birillo Dog e in questo momento secondo te cosa sarebbe meglio fare per Drago ovviamente il passo è più veloce di quelli dietro secondo te non sarebbe meglio provare a farsi trainare oppure dici ne ha veramente tanto di meno che non ha senso farsi passare per poi tentare di perdere la posizione ma allora per come si è fatto riprendere ne ha di meno dei due piloti al suo inseguimento sul bagnato conta tantissimo la track position quindi dal mio punto di vista conviene sempre rimanere davanti perché comunque è molto più difficile superare e comunque rispetto agli altri ha un buon ritmo in questo momento tra tutti Z Pro Mauro è di un altro livello quindi per Drago in questo momento si deve concentrare per la lotta seconda posizione e vedere un po' cosa può fare con le strategie tanto Dadoizzi in fondo era andata ai box quindi probabilmente un altro danno all'ala per lui c'era una bandiera gialla nel terzo settore prontamente tolta urca urca birillo dog 1.21.894 giro veloce del pilota Red Bull si sto facendo un po' elastico birillo perché si allontana fa il giro veloce si riavvicina ma non ha lo spunto per passare questa è la difficoltà di quando si corre sul bagnato questa è la difficoltà di quando si corre in mezzo al gruppo bisogna capire la strategia magari birillo potrebbe fare due soste a questo punto anticipare la prima sosta e cercare di spingere la pista libera anche perché andiamo a mettere il distacco dal pilota in testa ci vogliono 18 secondi se non erro o di meno per un pit stop in questo momento potrebbe comunque tutto sommato uscire davanti ad Alessi e trovarsi neanche subito Marco Ghanu perché sarebbe a 4 secondi da lui quindi avrebbe pista libera e tentare un undercut poi su Z Promauro e Dragoglievitato birillo dog quindi tutto sommato non sarebbe tanto azzardata l'idea di fare due soste oddio perché in questo momento intanto davanti si ferma se non sbaglio le salva in questo momento più che altro birillo si troverebbe dietro a Luca Flaminio perché considera comunque che bisogna calcolare 18 secondi dal suo ritardo intanto si fa vedere su Dragoglievitato ma non ce la fai ah già c'è ragione non ha lo spazio non ha lo spazio per fare una manovra del genere e non credo che lo avrà al termine della prima sosta quindi è un po' un rischio per lui ma se vuole inventarsi qualcosa lui o Just Lawler devono provarci perché sicuramente Dragoglievitato ne ha di meno sta perdendo tantissimo da Zeta Promauro che se ne sta andando bellamente con 7 secondi e mezzo e è una fase molto cruciale della gara perché poi dopo 10 secondi non le recuperi almeno che non hai un ritmo di un secondo giro più veloce bisogna vedere colpo di scena Just Lawler 3 secondi di penalità tanto da Doizzi con le nuove gomme fa 1.21.6 potrebbe essere un'indicazione per Birillo Dog il suo compagno di squadra con gomme nuove quindi andiamo a vedere come lo interpreterà il pilota attenzione Michemai Michemai con Alessi ancora al tornantino si scambiano ricambia la posizione escono appaiati e poi in trazione Michemai ce la fa vediamo se Alessi tenterà di un altro attacco all'ultima chicana in questo momento è davanti il vantaggio di traiettoria e Alessi vediamo l'incrocio forse dimmi che mai per andare all'attacco in curva 1 scoda purtroppo e quindi Alessi mantiene ancora la sesta posizione bello questo duello tra il pilota Mercedes e il pilota Ferrari con Mauro Gold spettatore molto molto vicino è successa la battaglia anche là davanti perché adesso Birillo ha rotto un po' gli indugi e Just Lawler con i 3 secondi sta rompendo gli indugi anche lui perché in questo momento è quello più svantaggiato dato i 3 secondi di penalità quindi credo che si muoverà qualcosa anche là davanti e si se Just ne ha di più in questo momento deve assolutamente passare sia Birillo Dog che Drago lievitato lei le salva si ritira dalla sessione mannaggia secondo settore quindi credo sia credo sia dove sia un safety car safety car cambia tutto attenzione che potrebbero rientrare Z Pro Mauro invece continua attenzione dietro che potrebbero rientrare perché si diminuisce anche lo svantaggio con la safety car dentro il box eh si potrebbe essere un jolly per qualcuno vediamo 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 Drago continua Birillo e Just Birillo vai box Just invece continua anche lui forse vuole provarci subito su Drago lievitato e sta facendo la gara probabilmente su di lui il pilota della Williams attenzione perché Birillo perde solamente la posizione da Just in questo momento a meno che Luca Flaminio non lo passi ma lo vedo difficile vediamo sarebbe un grandissimo alleato Flaminio di Just Loller sono appagliati da davanti per un pelo per qualche millesimo Flaminio è davanti a Birillo Dog e può essere un grosso grosso alleato di Just Loller Mister X ai box anche cartista ne vediamo cosa succederà anche nelle retrovie si riapre la gara di Dadoizzi che l'avevamo visto purtroppo girarsi e rompere un'ala si riaprono tante gare allora sinceramente mi sarei aspettato che Z Pro Mauro si fosse fermato in questa safety car perché comunque essendo là davanti e il pit lì vicino a quel punto avrebbe comunque tratto vantaggio visto che aveva gomma nuova i primi 4 non si sono fermati quindi sicuramente potrebbero andare per un'unica sosta a questo punto allungando ancora la strategia mentre chi si è fermato adesso sicuramente farà due stop da qui al termine quindi sicuramente si fermerà un'altra volta ancora senza tenendo fuori ovviamente un'altra possibile safety car perché con questa pioggia su questo tracciato è difficile comunque quindi non è del tutto non è del tutto scontato che non ce ne siano più si non è del tutto scontato che non ce ne siano più ma la gomma intermedia comunque resiste bene sulla durata alla fine quindi alla fine serve soltanto una volta cambiarla nel momento giusto perché poi dopo mantieni la track position davanti vediamo 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 quel che succederà intanto dato che siamo sotto safety car io vi ricordo iniziamo a fare un po' di salotto con la nostra chat fino alla ripresa della gara che è arrivata una notiziona nel nel giorno di oggi ovvero che la EA Sports ha acquisito la Codemaster Andre io ti sento respirare quindi vado a chiedere a te Formula 1 2020 la musica ancora ricordo della musica d'entrata di F1 2000 per i vecchi diciamo con la musica del vetro che si rompeva comunque di un rumore con poi vabbè la voce di EA Sports è passato tanto tempo esatto è passato tanto tempo non credo che come in quella quell'edizione chi partirà al ventesimo come spesso facevo io in Curvo 1 sarà il primo io personalmente prendevo non la serie EA ma la studio Liverpool il gioco di Formula 1 si chiamava invece uno Formula 1 2000 è stato l'ultimo no il 2002 il 2002 sì sì era un gran bel gioco non l'aveva fatto da EA ma era un gran bel gioco anche quello però per esempio se si rompeva che ne so il muso anteriore sul sul rettilineo si guadagnavano 20 km l'ora di in più cioè era bellissimo erano quei giochi spettacolari vabbè diciamo che erano tempi veramente diversi quindi assolutamente cioè il passo EA Sports secondo me l'hanno fatto soprattutto per il competitivo con la Codemaster per migliorare quello che è il parametro online perché comunque i server EA sono veramente molto migliori di quelli che ha Codemaster adesso però io ho letto alcuni alcuni aneddoti di persone che hanno già detto a me non piace che EA abbia comprato Codemaster perché adesso sarà un pay to win oppure ci sarà veramente ci saranno le schermate degli acquisti in game extra cioè prenderanno tutto praticamente sì poi bisognerà valutare anche come se dal punto di vista tecnico si affidano allo stesso team cioè il team rimane e chiaramente magari lo rinforzano anche perché le risorse saranno maggiori io credo che parliamo più del titolo prossimo parliamo del titolo 2022 esatto perché non credo che per il prossimo titolo si siano già mossi in anticipo penso che siano già un punto di sviluppo su PS5 quindi sarà un titolo però è da vedere perché un titolo del basket di esports era NBA mi sembra live 2000 che andava contro 2k diciamo che era molto molto arcade rispetto a 2k poi chiaramente dipende dal tipo di gioco perché stiamo parlando di gioco diversi basket calcio sì ovvio io credo questo che EA a un livello successivo la dinamica online di codemaster e codemaster continua a fare quello che ha fatto fino adesso perché sarebbe da sciocchi EA dopo 20 anni che non fai più un gioco con tutte le dinamiche le fisiche i motori grafici che sono cambiati ti proprio cancelli tutto quello fatto da codemaster e puoi rivederlo ma cancellarlo no perché sono 20 anni di esperienza comunque 10 anni di esperienza per codemaster sì sì assolutamente 10 anni sì intanto la safety car sta dietro la safety car rientra in questo giro vediamo se ci sarà un'altra safety car per il salotto fit o speriamo di no ovviamente per i piloti e anche per viverci al meglio questa gara che quindi riparte quando mancano 50 giri alla fine diamola davanti vediamo se z promauro molta curiosità su birillo eh birillo bisogna vedere perché come detto è uno dei piloti uno dei pochi piloti che è rientrato marco ganu marco ganu non ci credo safety car safety car almeno credo no no invece di partenza scusami no no solo bagnera è stato un po' come al mugello questa situazione peccato a fare le spese c'è stato marco ganu e quindi si ritira sotto safety car attenzione perché solo i primi quattro non hanno effettuato la sosta mentre da birillo dog fino a john rambo hanno tutti gomme nuove quindi attenzione perché sono tutti attaccati tra tutti quello che ci ha guadagnato in questa safety car è stato Flaminio che non si è fermato e come parlavamo prima la track position qua è importante se Luca fa ancora almeno una quindicina di giri o anche meno potrebbe pensare di fare una sosta e pareggia praticamente le soste dei suoi avversari perché credo che comunque 50 giri le gomme intermedi non ne fanno quindi grande chance comunque per Flaminio di recuperare molto dalla sua posizione di partenza iniziale però deve difendersi da birillo ovviamente credo di sì credo di sì anche perché in questo momento Flaminio credo che agirà come bodyguard di Just Lawler o almeno sicuramente agirà come bodyguard di Just Lawler intanto Mikemai Alessisi stava facendo vedere su Mikemai quindi dopo andremo anche a vedere il duello che si sta proterendo da un po' di giro attenzione perché birillo esce velocissimo e ma 5 secondi per taglio curva una difesa forse non se l'aspettava Flaminio di trovarlo così all'interno è molto borderline diciamo sia la difesa sia anche comunque l'attacco di birillo perché sono 10 secondi taglio di curva e guadagno una posizione andiamo a vedere se qui io credo che è giusta la questione perché comunque birillo ha tagliato la curva doveva arrivare 15 secondi il gioco da 15 secondi di penalità birillo dog è incredibile 15 secondi sono tanti questa cosa si questa cosa si potrà sicuramente post gara perché è una decisione molto importante soprattutto per il fatto che birillo aveva una grossa chance comunque di attaccare i primi 4 e con questi 15 secondi diciamo che questa chance un po' si sgretola eh sì anche perché io spero che non li faranno scontare tutti ai box perché 15 secondi ai box vuol dire fare un pit stop alla formula 2 che tra l'altro ricordiamo che ritornerà proprio con la patch che era uscita qualche settimana fa delle formula 1 della formula 2 2020 quelle con i cerchioni a 18 pollici ritornerà anche sul fit il campionato formula 2 quindi rimanete sintonizzati per tutte le news anche su questo campionato oh e rompemi che mai alle spalle di luta in tentativo ha sbagliato completamente la staccata non ha preso bene il riferimento di Luca e ha tamponato completamente il pilota della Williams Luca che è molto in difficoltà con queste gomme comunque rispetto a chi ha gomma nuova assolutamente 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 eh attenzione intanto la davanti hanno un po' le spalle parate Just Loller continua a tamponare da dietro Drago lievitato deve passarlo già eh si deve passarlo assolutamente in questo momento è molto vicino è molto vicino tra i decimi vediamo se tenterà l'attacco Alessi dentro a Flaminio ma andiamo davanti perché Just Loller potrebbe essere il punto cruciale della gara vediamo se prepara è appunto entrato molto piano per preparare l'uscita e tentare un attacco in curva 1 ma si difende molto molto bene Drago lievitato Bilino Dog intanto 1.21.6 mamma mia c'è un trenino incredibile da Alessi fino a John Rambo vedremo cosa ne scaturirà un Mr. X che da partito ultimo è ottavo in questo momento dietro a Mauro Gold quindi buona sua gara è buona anche la gara di Alessi comunque che si ritrova di nuovo in top 5 con l'opportunità addirittura di provare a andare alla conquista del podio anche perché Just e Bilino Dog sono penalizzate quindi Alessi comunque non è lontano dal podio bisogna vedere bisogna vedere perché Just questa volta è di nuovo molto molto vicino a Drago lievitato deve trazionare molto molto bene al tornantino per tentare un attacco adesso vediamo eh non è uscito male il pilota della Williams potrebbe provarci molto pulito allora andiamo a vedere sul rettilineo prima della staccata dell'ultima chicana questa volta è molto molto vicino un decimo attenzione vediamo si fa tutto sulla destra però desista ancora la volta vediamo se ci riproverà qui questa volta è molto vicino è molto vicino vediamo se Just Lawler può tentare un attacco in curva 1 vediamo come si difenderà Drago e si difende molto bene il pilota dell'Alfa Tauri ovviamente questa lotta sta facendo scappare Z Pramauro e sta facendo riavvicinare come un avvolto Yobirillo Dog anche se ha 15 secondi di penalità come dicevamo prima si che poi in questo momento Z Pramauro sta sfruttando benissimo il duello che c'è alle sue spalle Just è nettamente in questo momento superiore rispetto a Drago Levitato Drago Levitato che però non va a proteggere la staccata ma stacca sulla traiettoria ideale quindi questo gli permette di staccare molto più forte molto più da dritto e quindi frenare più in là rispetto a Just che deve comunque uscire di traiettoria e quindi vediamo se ci prova qui la staccata del tornantino si fa vedere tanto Mr X prende 3 secondi di penalità vediamo come esce e questa volta non è uscito benissimo e quindi c'è Pirillo Dog dietro attenzione si caprà la scia Just per potersi difendere dall'attacco di Pirillo Dog dobbiamo cercare bene di leggere la gara dei primi tre perché comunque saranno i primi a fermarsi rispetto a tutto il gruppone che si è fermato sotto Safety Car e quindi dobbiamo leggere anche i distacchi Mauro Gold scusami Mauro Gold molto vicino a Flaminio vediamo come esce qui neanche lui ce la fa ma dietro anche Dadoizzi molto vicino a Cartista che però si riesce a difendere grazie alla scia offerta dalla Mercedes di Mr X quindi rimangono ancora cristallizzate le posizioni e invece Z Pro Mauro non ne abbiamo parlato tanto ma perché sta conducendo una gara perfetta fino a questo momento sempre in testa ha fatto veramente la differenza prima della Safety Car era già a 7 secondi come stavo dicendo prima dobbiamo vedere anche i distacchi dei primi tre rispetto a Gresto del gruppo perché in questo momento Z Pro Mauro rientrerebbe dietro a John Rambo con le soste e quindi Z Pro Mauro deve cercare di spingere per cercare di guadagnare o quantomeno difendersi rispetto a Chiacoma Nuova occhio non gli ha guadagnato tanto in trazione questa volta Just a Drago gli ha evitato infatti rimane a mezzo secondo da Druizzi intanto su Cartista la saccata del tornantino si butta all'interno e va a prendersi la posizione sulla Racing Point che è attaccato a sua volta da John Rambo dietro quindi vediamo cosa può succedere la davanti ancora tutto normale Just Lawler ovviamente tenta tutte le volte di uscire meglio per tentare un attacco di staccata di curva 1 sull'Alfa Tauri di Drago gli ha evitato ma gli manca ancora 20 metri per riuscire per riuscire a tentare un attacco e cosa è cosa importante comunque la gomma nuova che hanno montato la maggior parte dei piloti non è così più veloce rispetto alle gomme usate dei piloti che stanno là davanti quindi credo che fare la sosta posticipata per i piloti che non sono rientrati possa poi diventare un vantaggio a fine gara attenzione continuiamo a seguire la gara molto vicino qua adesso dei primi due in classifica provvisoria molto vicino vediamo se ci tenta subito al tornantino no prepara l'uscita di curva Just Lawler per trazionare meglio stavolta ha trazionato molto molto bene Just attenzione quindi vediamo se riuscirà a tentare l'attacco su Drago Levitato che ovviamente si continua a difendere è dura è dura senza DRS si fa vedere Just ma deve desistere esce anche molto male dall'ultima chicane quindi vediamo se Pirillo Dog può tentare un attacco in staccata di curva 1 rimane dietro Pirillo intanto dietro Mauro Gold su Flaminio errore di Flamin è arrivato lungo la chicane arriva lungo la chicane infatti Mr. X tenta di sorpassarlo e ce la fa vediamo se anche Dadoizzi si infila difficoltà Luca in queste condizioni soprattutto con queste gomme molto usate sta facendo fatica tanto non me l'aspettavo perché credevo che poteva tenere comunque il ritmo del compagno di squadra invece dopo la vicissitudine con Pirillo ha fatto fatica e quindi vediamo Dadoizzi intanto attenzione là davanti perché avevo visto il distacco scendere sotto ai due decimi attenzione perché Z Promauro ha perso un po' in questo settore e mi sa non vorrei o ha fatto un errore o si è appoggiato al muro perché ha perso veramente tanto in questo giro allora continuiamo a stare lì davanti vediamo già Slaller questa volta non riuscirà di nuovo attaccare Drago Livitato andiamo a vedere questo punto Z Promauro allora le ali le vedo normali non vorrei ci fosse il fatidico danno del 12% attenzione a Dadoizzi eh attenzione a Dadoizzi niente da fare è uscito? no era uscito un po' male Drago ah era uscito male Drago sì però ovviamente è molto molto difficile tentare un attacco sul rettilineo del traguardo anche perché è molto corto poi senza DRS come dicevamo prima è veramente molto difficile attaccare ovunque su questa pista dobbiamo cercare di capire cosa è successo in Z Promauro perché non ha fatto un bel secondo settore nel giro precedente sicuramente ha fatto un errore infatti ha alzato tanto i suoi tempi rispetto a come girava prima anche se poi nell'ultimo settore è andato molto molto veloce quindi sembra ritornare sui suoi tempi quindi piccolo errore per il pilota ma che comunque conduce con tre secondi in margine sul terzo in seguimento è uscito male è uscito male è uscito male Drago l'holler che è just l'holler su Drago l'holler questo attacco perché ha dovuto addirizzare la traiettoria sì e attenzione perché più che altri piloti che non si sono fermati quindi Z Promauro Drago l'ho evitato scusami da Doizzi staccata dell'ultima chicane si porta in ottava posizione passa Flaminio vai che viene passato adesso anche da Cartista credo sul rettilineo del traguardo vediamo all'interno Cartista e si difende Flaminio si difende alla traiettoria interna e riesce a tenere la nuova posizione il pilota Williams su Cartista che quindi perderà un po' di tempo dalla Doizzi no concludendo invece il mio discorso dicevo che i primi tre in questo momento si ritroverebbero tutto dietro al gruppo si ritroverebbero pure dietro John Rambo e attenzione perché poi dopo li devono superare e non sarà facile superare questi piloti quindi la gara comunque è lungi da essere finita anzi ci possono essere tantissimi colpi di scena come sempre Just si fa vedere la staccata del tornantino deve uscire molto molto vicino e questa volta lo fa e questa volta lo fa e a tredecimi in uscita vediamo se ce la farà tentare l'attacco questa volta su Drago Lievitato che darà fondo a tutta la parte elettrica del suo motore infatti vai box vai box sia Drago sia Drago che Birillo che Z Promauro occhio a Birillo eh Birillo tenta l'attacco su Just Lawler si fa vedere all'interno bravo il pilota Williams a lasciargli lo spazio eh attenzione eh perché potrebbero sì avere molto molto più vantaggio poi in questi giri vediamo dove finiscono Z Promauro nel traffico Z Promauro nel traffico Drago Lievitato è a 2 secondi e 3 da cartista quindi un pochettino più di strada pulita potrebbe aspettare quindi a questo punto a questo punto Just Lawler a rientrare vediamo se perderà più tempo Z Promauro deve passare subito perché se no si mette in un mare di guai attenzione perché Just può aver avuto un jolly rimanendo fuori ma Z Promauro in questo momento all'esterno non ce la fa fase cruciale della gara adesso eh sì perché oh Giorra mamma 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 l'ha tenuta l'ha tenuta Giorra oh che gli tira la staccata gli tira la staccata e si rimette davanti e questo fa perdere tantissimo a Z Promauro ovviamente Giorra Rambo sta facendo la sua gara quindi è questo un favore per Just vediamo Z Promauro se gli tirerà la staccata non riesce a passare non riesce a passare su Giorra Rambo da Doizzi ai box Z Promauro è dietro a Giorra che non riesce a passarlo incredibile incredibile questo potrebbe andare a vantaggio di un'eventuale sosta posticipata di Just Loller oltre ad avere le gomme meno usurate oh mamma la stava buttando Just ha forato Just ha forato Just posteriore sinistra andata ha forato Just attenzione colpo di scena mamma mia che bel colpo per Just ha la rotta per lui quindi saranno tanti secondi per 6 box attenzione attenzione perché la posteriore non è facile controllare una posteriore bucata mamma quanti traversi che sta facendo occhio qui occhio qui a come fare il tornantino si gira mamma mia che sfortuna Ver Just aveva forse azzeccato la mossa giusta ma la furatura gli ha distrutto tutto adesso Z Promauro deve passare per forza John Rambo anche perché Birillo Dog è gomma nuova quindi John ci prova ma questa volta non ce la fa Z Promauro passa mamma mia quanta attenzione perché è molto attaccato John Rambo secondo me potrebbe tirare la staccata ovviamente Flaminio passa Just che va in box questa volta Z Promauro se ne va senza troppe difficoltà a questo punto lascerà la pratica John Rambo a cartista e d'argo lievitato Dadoizzi passa Flaminio in curva 1 e 2 tra curva 1 e 2 mamma mia Just va anche lentissimo ai box quante cose sono successe in due giri quanti capovolgimenti di fronte in pochi snattimi e adesso la palla va di nuovo a Z Promauro con Birillo Dog che l'unica cosa che può fare è martellare spingere tutto quello che può e poi montare gomma nuova intermedia e spingere ancora e a questo punto è vero che avevano più carico di carburante però se Just intanto Drago lievitato passa cartista al tornantino in trazione al tornantino diceva a questo punto si con più carico di carburante però Just ha forato al 32esimo giro non abbiamo visto se si però oh Flaminio safety car scusate bandiera gialla nel terzo settore vediamo c'è la macchina in pista attenzione niente niente ancora quindi non credo che uscirà la safety car non credo si eh diciamo che allora 50 giri le gomme non le fanno quindi Birillo deve per forza rientrare virtual virtual safety car e questo potrebbe essere un aiuto per Birillo se la safety car persiste perché potrebbe rientrare a questo punto scontare la penalità e quindi ritrovarsi poi dopo con Zeta Promauro a pari penalità anche se però 15 non so quanto posso far scontare vediamo sicuramente o se non rientrano devono per forza continuare dipende molto dalla durata della virtual vediamo se ci proverà Birillo dog arriva adesso all'ultima curva no continua continua quindi mi ha fatto bene mi sembra termina la safety car dicevi Andre che ti ho sentito un po' laggare no perché sta guadagnando in questo momento quindi si però a 15 secondi 15 secondi di penalità da scontare sono tanti iniziano a essere tantini Mauro Gold intanto sempre franco bollata d'Alesi e anche Mr. X quindi vedremo diamogli evitato che si è fermato anche lui insieme a Zeta Promauro non è riuscito ancora a passare Giorrambo e Giorrambo in questa gara è molto molto coriaceo da passare vediamo cosa potrà fare il pilota McLaren ovviamente si è dovuto arrendere Zeta Promauro che ha un passo molto molto più elevato vediamo Drago lievitato che ha avuto un pochettino in più di problemi di Zeta Promauro quanto tempo dovrà impiegare per tentare una manovra di sorpasso ai danni della McLaren comunque sicuramente la gomma intermedia può fare i 35 giri che servono a Zeta Promauro perché la gomma ha dimostrato veramente un'ottima efficacia e quindi sicuramente Zeta Promauro non si ferma più la cosa interessante è capire il ritmo quanto ne ha adesso di più rispetto a Birillo e se ne ha di più rispetto a Birillo alla rotta per Giorrambo attenzione alla rotta per Giorrambo quindi Drago lievitato lo deve passare qui subito si difende però si difende Giorrambo all'interno prende è lungo ma questo favorisce l'interno in curva 2 e quindi si riesce a difendere questa è una bruttissima notizia per Drago lievitato addirittura sono saliti tanto con i distacchi si ha perso 5 secondi da Zeta Promauro quando invece stava a 2 secondi quindi Drago in questo momento deve sbarazzarsi del pilota McLaren ma perde il posteriore ma 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 come l'ha tenuta come l'ha tenuta ha fatto un traverso incredibile Mister X intanto ha perso un po' di contatto con Mauro Golda 1 e 2 Mauro Golda invece sempre a mezzo secondo e sta insediando Alessi in questo momento Mauro sta girando veramente forte vediamo vediamo Mauro Golda se tenterà un attacco su Alessi difficile passarlo il pilota Ferrari prende il centro della pista andiamo a se prepara l'uscita è ancora un pochettino distante Mauro Golda Dragoglievitato non riesce di nuovo a passare John Rambo esce male anche e quindi si dovrà fare un altro giro dietro a John Rambo in sesta posizione con la rotta incredibile Berillo Dog sta girando in 21.3 il terzetto al suo inseguimento sta girando sopra il 22 in 22 basso Zeta Promauro il più veloce dei primi 5 sta girando in 27 ha guadagnato quindi oltre mezza seconda rispetto al leader della classifica in questo momento e quindi sta cercando di mettere un tesoretto fra lui e Berillo Dog per le ultime fasi di gara considerando anche che Berillo ha comunque 15 secondi in penalità eh sì in questo momento ovviamente insieme ai 18 secondi di una sosta normale sarebbero 33 secondi di pit stop per Berillo se gli farà scontare tutti assieme intanto altri 3 secondi di penalità per John Rambo Mauro Gold vicino ad Alesi vicinissimo ad Alesi attenzione due decimi si fa tutto sulla destra Alesi protegge l'interno vediamo se in questo momento Mauro Gold potrebbe impostare meglio l'uscita dall'ultima curva manca qualcosina e Alesi ha fatto una grandissima manovra molto bravo il pilota il pilota Ferrari e si sta aggregando a loro Mister X ma subito dietro anche Z Pro Mauro quindi questo diventerà un quartetto eh un Z Pro Mauro che comunque non ce l'avrà facile nei confronti di questo terzetto perché già è dura sorpassare una vettura figuriamoci tre che si tirano la scia insieme si soprattutto se poi stanno in battaglia quindi sicuramente stanno pensando più alla loro battaglia arriva alla staccata e non ce la fa di curva 5 non ce la fa si fa vedere in ogni dove Drago gli concede sempre l'esterno Giorrambo che sta tirando fuori i muscoli questa sera anche magari per dare una mano a Mauro Gold eh sì questo indubbiamente è una mano al suo compagno di squadra perché sta facendo perdere tempo a Drago Levitato Drago che ha 8 secondi a Z Pro Mauro sta perdendo un'eternità in duello con Giorrambo sempre solita mossa da parte di Alessi mossa difensiva questa volta è uscito fortissimo Mauro Gold attenzione perché viaggiano insieme verso staccata di curva 1 con all'esterno Mauro Gold Alessi tira la stacca un grandissimo sorpasso da parte di Mauro Gold DRS abilitato DRS con la pioggia che sta succedendo con The Master l'aggiornamento della Turchia probabilmente funziona anche qua in Canada evidentemente la pioggia è lì lì con le gomme d'asciutto infatti da Doizzi e Mikemai hanno messo gomme d'asciutto però non so se è la scelta giusta perché comunque sta cadendo la pioggia la pista è umida vediamo a questo punto teniamo sott'occhio da Doizzi e Mikemai io direi che se fossi Mauro Gold non la prenderei tanto bene comunque perché ho appena passato all'esì facendomi un mazzo tanto per passarlo e mi attivano attenzione perché secondo me la pista è asciuttissima è asciuttissima no io sto vedendo cadere l'acqua l'acqua sì l'acqua sì ma la pista è asciuttissima io ho visto bloccare tantissimo Mauro Gold Birillo tutti ai box tutti ai box colpo di scena colpo di scena dava dava tutta pioggia dal mio punto di vista secondo me è un errore perché la pioggia comunque c'è secondo me addirittura ricadrà di nuovo la pioggia e saranno tutti costretti attenzione Alessi Alessi passa ai box Mauro Gold e si riprende la posizione non ci credo Birillo ha ascoltato invece solo cinque secondi della sua e quindi dieci ne rimangono John Rambo in pista con le intermedie adesso vediamo adesso vediamo adesso vediamo perché secondo me la pioggia sta per cadere di nuovo Dadoizzi mi ha fatto un undercut incredibile Dadoizzi è ottavo no gli mangia tantissimo Birillo a John Rambo si che ha anche la larotta eh però secondo me in questo momento se tutti sono andati sulle gomme soft John Rambo grandissimo controllo del pilota McLaren Birillo Dog passa in questo momento con le gomme medie non ha una trazione così felice con le gomme da asciutto attenzione perché adesso è molto difficile per i piloti che hanno gomme da asciutto spingere tanto perché la pista è molto umida e gli errori sono ancora dietro all'angolo ancora di più mi chiamai intanto tre secondi di penalità e anche John Rambo vai box è un colpo di scena ricordiamo che sull'asciutto si gira in 1.12 in 1.12 si gira sull'asciutto 1.13 quindi vediamo adesso il primo giro lanciato di Alessi e di Birillo Dog perché Alessi ha messo gomme soft e Birillo Dog ha messo io non vorrei dire nulla però Alessi in questo momento è in testa perché con queste strategie tutte rigirate chi ci ha perso è Zeta Promauro che era quinto ed è rimasto quinto eh sì vediamo vediamo cosa succederà tra l'altro è arrivato nel gruppone quando hanno messo il DRS quindi oltre a tirarsi con la scia i piloti davanti potevano tirarsi anche col DRS e difendersi dai dagli attacchi di Zeta Promauro guarda Just Lawler ha fatto il giro record ma è 1-19-3 che non è così tanto più veloce di quanto giravano con l'intermedio sì era sicuramente sicuramente in questo momento più veloce dell'intermedia ma non è così tanto più veloce e secondo me la pioggia arriva ancora nel finale della gara perché comunque non ha smesso vedremo vedremo saranno 28 giri tutti da scoprire in questo Gran Premio del Canada guarda guardando i tempi Urca mi che mai soggiorno Birillo 19-9 Alessi 27 il giro più veloce di Zeta Promauro con gomma nuova era 26 con l'intermedia quindi le due strategie andavano alla pari attenzione vediamo in questo momento Birillo Dog dovrebbe guadagnare ancora 4 e mezzo però se dovesse esserci un'altra sosta andrebbe a scontare altri 5 secondi il che vuol dire che ne avrebbe solo 5 alla fine di secondi di penalità sì però dietro sto vedendo che Alessi sta guadagnando adesso perché la gomma rossa funziona 19-3 ancora per Just però vedo che Birillo non sta migliorando rispetto ai suoi tempi del giro precedente tutti i piloti comunque è una condizione difficilissima questa eh sì perché la pista è umida quindi devi stare attentissimo a come a come parzializzi come cerchi di dare gas in uscita di curva eh Z Pro Mauro Z Pro Mauro su Mr. X che ha il DRS ma prende l'interno Z Pro Mauro e si va a prendere la quarta posizione al momento anche lui senza penalità sì Birillo a 10 secondi Mauro 3 secondi 3 secondi anche per Mr. X mentre Rambo va in box di nuovo vediamo forse per montare l'intermedio a questo punto di nuovo anzi no gomma riasciuta ha rotto l'ala ecco perché vediamo attenzione perché in questo momento Alessi non ha il DRS e quindi Mauro Gold potrebbe tentare l'attacco adesso attenzione si che ha gomma soft quindi trazione 1,18 9 Mauro è arrivato lunghissimo lotta tra Mauri là dietro dietro ad Alessi vediamo se riuscirà a difendersi il pilota McLaren sul pilota AS arriva 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 Mauro Gold gli concede di nuovo grandissima attenzione vediamo Alessi scoda Mauro Gold si fa vedere ma c'è anche Zeta Promauro all'interno Mauro Gold e anche Zeta Promauro che si trova la McLaren piantata occhio perché può tentare un attacco all'interno Zeta Promauro con la sua AS attenzione niente da fare fuori traiettoria comunque è umido non è facile trazionare fuori traiettoria mamma mia stanno perdendo tantissimo Birillo gli manca un secondo e mezzo per colmare i 10 secondi di penalità incredibile eh sì anche perché qua dietro stanno perdendo un sacco con questa battaglia è incredibile quello che stiamo vedendo Andre? no no diciamo mezzo secondo in nemmeno un settore eh sì anche perché l'hanno fatta appaiati in tre il primo settore quindi hanno perso veramente veramente tanto i i piloti vediamo adesso perché si è riunito mister x alla combriccola quindi vediamo è un quartetto in questo momento con Mauro Gold che si deve guardare più dietro che davanti in questo momento perché Zezapro Mauro si fa vedere arriva negli ultimi metri su Alessi vediamo se proverà l'attacco qua ci prova Mauro ci prova Mauro ci prova Mauro ci prova la McLaren di Mauro arrivano sul traguardo sempre l'interno Alessi come prima fotocopia il sorpasso di Mauro Gold che gli aveva fatto prima della sosta ad Alessi che si intraversa la Ferrari si era intraversata anche la ass di Zeta Pro Mauro che si deve accodare ad Alessi e intanto Birillo Dog è in testa di Gran Premio ufficialmente e questo questo è incredibile ha dell'incredibile Alessi Alessi mamma mamma e adesso vedremo quindi Zeta Pro Mauro cosa potrà fare perché è l'unico senza penalità dei primi dei primi quattro e vedremo cosa potrebbe succedere Birillo ha perso la macchina in uscita del tornante è una condizione veramente difficilissima per tutti i piloti non è facile urca 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 Mauro Gold ha preso un secondo e quattro a Zeta Pro Mauro quindi occhio perché dietro di lui c'è Mr. X e può azionare la mobile più che ha preso un secondo e quattro è l'errore di Alessi che ha fatto guadagnare un secondo e quattro a Mauro Gold però anche però Mauro Gold sta facendo veramente tanto tanto bene 1-0 infatti subito vanno a riprendere Zeta Pro Mauro il problema è che Mauro sta scendendo sotto il secondo il piedillo Drago e Dadoizzi si scambiano continuamente la posizione in curva 2 sanno che in questo momento si stanno giocando punti importanti per andare in testa al campionato dato che Just Loller in questo momento che sta attaccando John Rambo ovviamente passa uh attenzione ha tirato una staccatona John Rambo vediamo se tenterà di nuovo l'attacco Just Loller ce la fa decima posizione la gomma rossa comunque non funziona Andrea perché tutti in difficoltà chi ha montato gomma rossa la gomma media sembra essere la gomma migliore in queste condizioni con Mauro Gold che sta tenendo il ritmo di Birillo Dog e Zeta Pro Mauro invece che ha guadagnato mezzo secondo Zeta Pro Mauro dei tre è il più veloce in pista eh sì attenzione perché Zeta Pro Mauro in questo momento è a quattro decimi occhio occhio Dragoglievitato e Dadoizzi ancora ha rotto l'ala ha rotto l'ala ha rotto l'ala Dadoizzi in un contatto con Dragoglievitato eh attenzione la gara è lunghissima ancora però la gara è lunghissima in queste condizioni ancora di più la gara è lunghissima vedremo cosa quale colpo di scena ci potrà riservare ancora questo gran premio l'ultimo dell'anno per la Pro League comunque i primi i primi tre in classifica sono negli ultimi cinque posti della classifica generale sì 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 ok no perché non riuscivo a capire ancora questa cosa poi io ho il posto perfetto sì i primi tre della generale sono nelle ultime posizioni eh sì c'è Drago lievitato in sesta posizione poi Dadoizzi nono e Just Lawler decimo a nove secondi otto quindi attenzione potrebbe accendersi la battaglia proprio tra Just e Dadoizzi Z Pro Mauro si può vedere su Mauro vicino ma non riesce ancora ad attaccare Z Pro Mauro su Mauro Gold la davanti si è un po' cristallizzato il distacco di Birillo Dog che comunque se dovesse fare un'altra sosta eh eh la farebbero tutti eh perché sono tutti a pari strategia anche se credo che però la gomma gialla potrebbe arrivare in fondo anche perché comunque i tempi sono quasi sette secondi più lenti rispetto a quanto si dovrebbe girare sull'asciutto sì e soprattutto sarebbero altri cinque secondi scontati da da Birillo da Dadoizzi ha rotto di nuovo la fermata oh no attenzione Z Pro Mauro che adesso è molto vicino potrebbe veramente provare l'attacco vediamo vediamo mezzo secondo da Mauro Gold vediamo se tenterà un attacco la ass di Z Pro Mauro per andarsi a prendere la seconda posizione arriva negli ultimi metri Mauro Gold tenta di chiudere infatti si toccano speriamo non ci sia stato un danno nei confronti dell'ass di Z Pro Mauro è molto molto stretta quell'ultima chicane farla in due è veramente difficile è un'altra è un'altra occasione nella quale Birillo si avvantaggia perché il distacco era di 10 secondi Z Pro Mauro sembra l'unico in questo momento che potrebbe andare più forte di lui ma deve passare Mauro Gold e non è facile e soprattutto poi dopo deve adesso guadagnare almeno 3 secondi rispetto a lui assolutamente e soprattutto questo potrebbe essere un assist al buon Mr. X che si potrebbe far trainare con questa gomma soft anche se sicuramente dovrà andare poi ai box per fare un'altra sosta non credo che riesca ad arrivare fino in fondo con queste gomme soft si potrebbe far trainare appunto da Z Pro Mauro col DRS per guadagnare un po' sugli inseguitori 6% il danno per Z Pro Mauro quindi tutto sommato può ancora continuare vediamo cosa farà il pilota della AS se rientrerà ai box continua sì comunque la scelta di montare la gomma da sotto è sicuramente corretta alla fine perché con questi tempi 19 girano leggermente più veloci rispetto alle intermedie ma non di tantissimo qualche pilota poteva addirittura allungare un po' lo stint con l'intermedia per poi montare gomma da sotto più fresca che sarebbe stata importantissima nell'ultima fase del Gran Premio adesso tutti però sono a darmi pare quindi vediamo realmente i loro passi in una condizione veramente attipica con un birillo dog che ricordiamo è l'ultimo vincitore di un Gran Premio perché a Baku ha vinto proprio il pilota della Red Bull si sta confermando la davanti non tanto con un passo magari a livelli di Drago o di Just Lawler ma con una costanza incredibile e con un'attenzione agli errori veramente molto molto coriaceo rispetto agli altri ovviamente Just Lawler 4-0 di fila Drago gli evitato delle volte fa degli errori Dadoizzi anche birillo dog sempre molto molto costante si sta sfruttando anche sul passo è costantissimo sta sfruttando tutto a suo favore sta facendo molto bene e comunque sta sopperendo a qualche a un problema che ha avuto all'inizio gara con Flaminio comunque adesso ha 10 secondi di penalità che in questo momento sta gestendo bene perché adesso ha 2 secondi e mezzo di vantaggio su chi non ha penalità ovvero Zeta Promauro è vero anche che comunque gli ha girato molto bene la gara perché quando proprio si è trovato da solo incredibilmente con la pioggia che sta cadendo hanno aperto il DRS e quando apre il DRS il gioco ti può dire anche guarda devi mettere gomme morbide anzi gomme nuove da asciutto quindi la gara si è svoltata lì però ancora 19 giri in questa condizione 19 giri anche chi è primo comunque deve stare molto attento perché basta un amen come abbiamo visto e vai a muro assolutamente sì quindi questi 19 giri ultimi 19 giri saranno veramente molto belli Dragogli invitato su Alesi allunga la staccata va lungo però attenzione perché può trazionare molto molto forte e infatti molto vicino subito addirittura prima della zona DRS lo attiva in questo momento tiene Alesi ancora all'interno vediamo si accoda il pilota Ferrari gomma rossa che fa veramente fatica comunque in questa condizione qua che tecnicamente dovrebbe dare una mano in più anche perché a più basse temperature una gomma un po' più morbida ti concedi di avere un po' più di grip invece la media vediamo che sta andando veramente molto molto bene un po' la stessa situazione che avevamo visto con la Ferrari in Ungheria nella realtà quando l'Eclerc aveva messo gomma più morbida invece la gomma media che aveva messo fertile andava meglio un po' più o meno la stessa situazione insomma ma io credo come dice una persona in questo party che stiano ancora cercando di capire nella nella code master anche per questa situazione qui stiamo cercando di capire come mai una gialla vada più forte di una rossa con queste condizioni molto bene molto bene puntini di sospensione molto bene vediamo come finirà questo gran premio del Canada Z Pro Mauro si è portato di nuovo sotto al secondo nei confronti di Moro Gold infatti aveva già l'ala posteriore mobile azionabile poi dietro tutto sommato si sta un po' cristallizzando la situazione anche perché Just Loller ha 12 secondi nei confronti di Mikemai che a sua volta ha 9 secondi nei confronti di Kartista che a sua volta ha 6 secondi e 8 nei confronti di Alessi quindi sono tutti abbastanza distanziati per il momento i piloti e in questo momento vincerà secondo me chi terrà i nervi saldi fino alla fine perché non è detto che questi che queste gomme potrebbero durare fino alla fine ma non per le soft sicuramente anche per usura intanto Zeta Promoro ha fatto un salvataggio incredibile le soft sicuramente non andranno alla fine per un problema di usura invece si può pensare che dal punto di vista meteorologico potrebbe esserci uno scorcio di pioggia che riandrà a bagnare la pista e tutti i piloti dovrebbero andare di nuovo su intermedie quindi vediamo cosa succederà tecnicamente Andrea la pista si sta bagnando perché sta piovendo e il problema è che non si sta bagnando a sufficienza per le gomme intermedie io sinceramente pensavo che lo scorcio di pioggia arrivasse molto prima stando così le cose in questo momento cambierebbe veramente poco la questione anche perché i distacchi sono veramente molto ampi adesso tra i piloti secondo me ancora ci potrebbe essere la variabile comunque di una safety car di una virtual perché in queste condizioni sbagliare è facilissimo e lo dimostra comunque varie perdite posteriore da parte di tutti i piloti sarà interessante capire Z Pro Mauro che con un piccolo danno all'ala ma soprattutto con Mauro Gold che è lì davanti vediamo se lo attaccherà subito anche perché lui è l'unico che ha la possibilità di vincere questo gran premio visto che non ha penalità e ha solamente tre secondi da recuperare a Birillo eventualmente quindi tutto sta nelle mani Z Pro Mauro mentre Birillo deve continuare così perché sta facendo una seconda parte di gara veramente straordinaria il pilota Red Bull oddio il buon il buon Tals che salutiamo ci dice in realtà le soft vanno fino alla fine io non credo che 30 giri le facciano poi magari tu Jay che provi la 100% non so se 30 giri le soft li possono fare allora in una condizione normale con le posteriori sei finito perché non hai il proprio grip in questa condizione è un po' difficile da capire perché comunque stai girando in 1.18 1.19 che è circa 6 secondi più lento quindi eventualmente l'usura non puoi sapere quanto stai consumando e magari stai consumando molto meno perché comunque vai più piano io credo però magari la gomma rossa potrebbe fermarsi e montare un'altra gomma rossa eventualmente però magari fai più correzioni e quindi probabilmente in trazione non sei perfetto e quindi probabilmente usuri un pochettino di più in quei momenti lì si vedrà è ovvio che la logica ti porta a dire girano 5-6 secondi più lenti e non hanno usura però abbiamo visto tante correzioni nel rispetto del tutti i piloti alla fine sì sì quello sì però sono correzioni che se tu vedi comunque sono a velocità molto inferiori rispetto a una normale correzione su asciutto quindi anche in modo di prendere il gas il modo comunque di fare le curve è molto diverso rispetto a un a un diciamo una gara normale ecco perché questa non si può definire una gara normale vista le condizioni atmosferiche vedremo vedremo lo scopriremo solo gareggiando prendendo una citazione rimodellandola per la serata per l'occasione con Berillo Dog che in prima posizione quando mancano 14 giri con Z Pro Mauro che per il momento si è posizionato a un secondo e 6 rispetto a Mauro Gold che comunque ha 3 secondi di penalità Z Pro Mauro invece no quindi la posizione dopo la bandiera scacchi la prenderebbe comunque Z Pro Mauro nei confronti della McLaren in questo momento Mauro Gold deve tentare di prendere un secondo e due nei confronti dell'ass di Z Pro Mauro Drago lievitato sta arrivando su Mr. X è a 2 secondi e 8 e attenzione perché potrebbe tutto sommato andare a riprendere anche Z Pro Mauro quindi giocarsi il podio e anche lui è senza penalità quindi saranno 13 giri adesso veramente scoppiettanti per questo finale per questo fine anno della Pro League da Doizzi vicinissimo a John Rambo quindi potrebbe ritornare in zona punti anche il pilota Red Bull vediamo bloccaggio dell'anteriore destra per John Rambo alla staccata del tornantino molto molto vicino molto vicino non riesce ad attaccare però la McLaren vediamo se ci proverà qui in uscita Urca 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 ha fatto un traverso incredibile virgole nere sull'asfalto per Dadoizzi tanto Kriwe ci dice le soft però sono quasi al desert eh magari lui è ingegnere credo sia ingegnere in McLaren Kriwe quindi non so se magari i piloti che hanno montato la gomma soft che in questo caso in McLaren no in McLaren non ce l'hanno non so ce lo dica signor Kriwe dov'è ingegnere lei così almeno vediamo Alessi è i box Alessi è infatti è infatti Alessi è i box attenzione rossa nuova rossa nuova per Alessi quindi vediamo se è solo un problema per lo stile di guida di Alessi oppure tutti iniziano ad accusare un cazzo eh mamma Mr.X ha perso due secondi in questo momento del drago lievitato era due secondi e mezzo alla fine dello scorso giro si considera oh mamma intanto mica mai ha perso leggermente posteriore dietro Alessi considera che in condizioni normali di asciutto si tende a fare circa 12-13 giri con la super soft con scusami con la gomma rossa la soft e quindi già farne 18 comunque è tanti per quella con malì eh sì sì io non credo che siano tanto studiati in code master da dire vabbè ci sono queste condizioni l'usura è meno lenta che comunque è meno lenta perché se ci hai detto 12-13 giri ne hanno fatti 18 con questa soft sono comunque 5-6 giri in più tanto drago lievitato è arrivato su Mr.X non riesce a passarlo in questo momento il pilota Alfa Tauri rimane dietro si accoda alla Mercedes in questo momento in quarta posizione anche se uh drago lievitato Just Loller Just Loller all'esterno di Michemai passa e comunque Just sta prendendo ottimi punti comunque con la foratura che ha avuto e la sfortuna che ha avuto a metà gara questi sono punti comunque importanti che sta prendendo eh sì andiamo di nuovo là davanti perché drago lievitato è attaccato a Mr.X vedremo cosa potrà fare cosa vorrà fare il pilota della Mercedes tanto Giorrambo ai box penso che dovrà andare ai box anche Mr.X che sta perdendo veramente tanto 8 secondi e 3 si è alzato il distacco su Z Promauro sta facendo fatica il pilota Mercedes comunque ottima ottima gara per lui perché si trova veramente in una posizione molto molto importante è veramente bravo a sfruttare anche lui tutte le condizioni avverse del meteo virtual safety car John Rambo si ritira dalla sessione virtual safety car e questo andiamo a vedere dove si è ritirato all'uscita dei box si è ritirato John Rambo virtual che può cambiare le sorti di qualcuno come lasciare un po' lì anche se i piloti sono un po' troppo lontani già stemi che mai si fermano credo che non varierà molto la gara ecco da questa virtual no anche perché in questo momento birillo sta transitando sul rettilineo chiamiamolo principale perché è più lungo vediamo se andrà in box non credo proprio è terminata la virtual safety car quindi continua il pilota red bull forse se arrivava intanto just ci comunicano dalla chat danno al 31% nella sua ala anteriore attenzione perché comunque la virtual ha fatto abbassare la temperatura delle gomme che già erano molto basse quindi questo primo giro che tutti faranno sarà molto difficile perché comunque devono riscaldare di nuovo queste gomme just intanto credo sia andata in box a sostituire l'ala si è andata in box a sostituire l'ala just loller che rimane in ottava posizione vediamo se è difficile andare premiamo safety altra virtual safety car virtual di nuovo virtual di nuovo e questa questa probabilmente dovrebbe essere per qualche detrito anche perché non c'è stato nessun ritiro almeno che non ho visto male allora ali rotte potrebbe essere la ruta di just loller magari che è rimasto in pista era prima oddio speriamo di no il buon raffaele lelli che salutiamo riali roshi ci dice credo si sia buggata io spero di no di arreste abilitato uh attenzione a Zpromauro urca urca Zpromauro a 4 decimi due virtual safety car hanno fatto sgretolare il distacco che aveva Mauro Gold di un secondo e tre nei confronti della AS speriamo davvero non si sia buggata e che si sia risolto tutto comunque Birillo secondo me deve comunque spingere un po' nel tentativo di proteggere il distacco nei confronti di Zpromauro perché se Zpromauro riesce a passare Mauro Gold non è così lontano dal tentativo di vittoria del Gran Premio del Canada quindi perché ha 2 secondi 8 per ora dal leader quindi gara ancora aperta sembra chiusa dai distacco ma non è così e soprattutto abbiamo due lotte Zpromauro contro Mauro virtual 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 eh probabilmente si che c'è un problema a questo punto io ho dei flashback e mi ricorda tanto questa situazione Russia 2017 se non mi sbaglio quando uscì ogni due giri usciva una safety qua è una virtual safety car ma ricordo bene quella gara lì veramente molto convulsa è una situazione molto borderline questo manca pochi giri di nuovo adesso viene rilasciata la virtual diciamo che non aiuta un po' tutto perché anche questa condizione che i piloti stanno viaggiando con gomma da asciutta mentre sta continuamente piovendo è un po' tutto strano questa questa gara qua intanto io vi informo che sul nostro canale telegram formula italian team official channel è presente il driver of the day quindi potete votare il vostro pilota preferito quando drago lievitato passa mister x all'interno e si porta in quarta posizione comunque potete anche metterci questo elemento per votare il vostro driver of the day ricordo sul nostro canale telegram quindi scaricate telegram cercate formula italian team official channel z pro mauro intanto niente potete votare il driver of the day torniamo in pista quindi eh z pro mauro ha rotto un po' gli indugi perché sta cercando in qualche modo di passare mauro è l'unica chance che ha per poter provare a vincere perché se mauro rimane davanti per lui è difficilissimo provare ad attaccare birillo tanto riscattano un bevete dalla chat il buon mister krive penso che alla fine di questi 70 giri berrò tanto per dare sollievo alle mie corde vocali quando z pro mauro ormai negli scarichi di mauro gold e vediamo se al prossimo giro ci sarà un altro avvento asserticare oppure si sarà risolta la situazione 13 e 3 in questo momento il distacco di birillo dog in confronti di mauro gold ricordiamo 10 secondi di penalità per birillo dog 3 secondi per mauro gold 0 per z pro mauro al momento anche drago lievitato senza penalità tanto just lol 1 17 7 arriva lungo drago lievitato bloccaggio dell'anteriore destra ci deve provare ad ogni costo z pro mauro in questi in questi giri qua perché ogni giro che passa è un giro in meno nel tentativo di attaccare per la vittoria e si arriva all'ultima curva molto vicino vediamo se prepara l'uscita di nuovo molto vicino z pro mauro ci prova vediamo se arrivano agli ultimi metri grandissima staccata eee contatto e rompela e questo consegna le chiavi e la vittoria birillo dog perché adesso con la rottura del flop di z pro mauro la faccenda si chiude qua per la vittoria e si è visto è arrivato negli ultimi metri z pro mauro mauro gold aveva lasciato tutto lo spazio addirittura aveva girato molto molto largo ha sbagliato la staccata e ha rotto l'ala z pro mauro si poi in queste condizioni qua difficile tentare un attacco così molto difficile tentare un attacco così e soprattutto fermare bene la macchina perché uscendo pure dal traiettore con gomme comunque che sono fredde e tutto facilissimo sbagliare bloccare andare lunghi si anche perché vai fuori traiettoria come dicevi qualche giro fa tu vai fuori traiettoria e ovviamente la pista è un pochettino più sporca magari un pochettino più umida e tende ad allungare la frenata quindi è molto molto difficile meno male tra virgolette che abbiamo visto un pochettino più di azione magari un pochettino più di sorpassi quando c'è stato l'abilitazione al DRS quattro giri al termine del Gran Premio di Canada della Pro League Birillo Dog sta per andare incredibilmente a doppiare il suo compagno di squadra Dadovizi che ha avuto tante tante problematiche nel corso del GP non è stato però il Dadovizi delle scorse gare assolutamente no assolutamente no però è anche difficile quando hai tanti quando fai tanti errori oppure quando ci sono tante problematiche tenere diciamo la mente lucida no perché se hai preso un secondo mi sembra inqualifica è tanto eh sì è un gran peccato anche perché comunque abbiamo visto un Birillo Dog che si conferma di nuovo in grande forma in grande forma soprattutto come dicevo prima molto costante molto costante attento quindi fa pochi errori e è là in prima posizione meritatamente anche perché comunque la gara gli si è girata diciamo nel verso giusto però poi in queste condizioni bisogna stare molto attenti a a non commettere errori e lui è stato bravissimo nel gestire la gara quindi tre giri al termine quando Dadoizio è andato a montare gomma soft nuova per tentare il giro veloce se lo può permettere anche perché era molto distanziato da Miche Mai e tra l'altro scende in top ten cerca di prendere un punticino in più eh sì soprattutto perché il punticino in più l'ha preso per ora già Slaller con il 17-7 che è il suo giro più veloce quindi anche balla questo per quanto riguarda la classifica mondiale comunque c'è da notare che Mr. X 27 giri sulla gomma soft e comunque resiste al ritorno di cartista quindi sta facendo un'ottima gara al pirota Mercedes in questo momento meritatamente in top 5 attenzione perché Mauro Gold manca un secondo per terminare la sua gara in seconda posizione ricordiamo Z Pro Mauro senza penalità al momento 23 secondi per Mauro Gold invece 10 secondi di penalità per Billy Law Dog ma ovviamente ha 15 secondi e 2 di vantaggio credo gliel'abbiano data anche un po' su sia Mauro Gold gliel'abbia data un po' su Mauro Gold anche perché era imprendibile sì più che altro Mauro ha avuto la reazione di restare un po' con Birillo ma poi dopo i duelli anche con Z Pro Mauro e il fatto che comunque anche lui ha 3 secondi di penalità credo che Mauro dalla sua esperienza abbia deciso e abbia capito che forse è molto importante portarsi a casa in secondo posto che in questa gara pazza è sicuramente molto buono 2 e mezzo 2 e mezzo 2 e 6 ricordiamo che Z Pro Mauro ha un bel danno all'ala quindi adesso sta facendo fatica il pilota dell'assa eh sì avendo l'ala rotta che ha danneggiato in un contatto tra lui e la McLaren di Mauro Gold 2 e 7 da Doizzi intanto si va a prendere il punticino bonus cosa che non potrà fare Just Loller andare ai box e montare gomma nuova perché perderebbe poi la posizione su Mike Mai che è a 5 secondi da lui 3 secondi 3 secondi in questo momento Mauro Gold da Z Pro Mauro e Mauro Gold ufficialmente secondo eh sì adesso vediamo al penultimo giro se riuscirà Z Pro Mauro a riprendere quei tre decimi molto difficile ma non impossibile bloccaggio dell'anteriore destra per la penultima volta al tornantino di Berillo Dog si lancia sul rettilineo più lungo del circuito di Montreal ricordiamo realizzato su un'isola artificiale dove c'è solo il tracciato va a iniziare in questo momento l'ultimo giro Berillo Dog curva 1 dietro intanto Z Pro Mauro recupera un decimino ma non basterebbe e dietro ancora Cartista ha raggiunto Mr. X quindi ci sarà scintille per la quinta e sesta posizione ottima gara gestita magistralmente da Berillo Dog dimmi Jay no stavo dicendo che Mr. X e Cartista entrambi hanno 3 secondi quindi è lotta vera per la posizione eh sì eh sì si vede si vede anche da grafica chi ha chi ha penalità e chi no metà dei piloti no 2 4 6 piloti hanno penalità mentre gli altri 4 sono puniti Berillo Dog arriva al tornantino diciamo gara gestita molto molto bene da Berillo Dog ha tenuto i nervi saldi e dopo Baku si lancia verso l'ultima chicane l'ultimo sfioro al moretto dei campioni e Berillo Dog possiamo dirlo vince la seconda gara consecutiva quest'anno per la Pro League grandissima gara arriva Mauro Gold secondo Z Pro Mauro la data su buona anche la gara di Mauro Gold Z Pro Mauro terzo primo di quelli senza penalità diciamo peccato aveva un gran passo sull'asciutto Davide lievitato quarto buona la gara del rimonta del pilota Alfa Tauri che in questo momento dei primi tre è colui che prende più punti poi Mister X ce la fate nella posizione su cartista Alessi sta arrivando in questo momento settima posizione per il pilota Ferrari Just Lawler molto molto sfortunato da quattro gare a questa parte con questa sono cinque prende e riesce a salvare il salvabile prende qualche punticino mi chiamai nono e poi decimo già arrivato da Loizzi doppiato da Birillo Dog io vi ricordo che potete votare per gli ultimi istanti il vostro Driver of the Day sul nostro canale telegram e di Formula Italian Team Official Channel pilota del giorno Mister X in effetti ha fatto una gara anche una bella gara anche lui e Jacopo è stata veramente una gara con tanti colpi di scena sembrava essersi incanalata dopo la prima sosta nei confronti di Just poi c'è stata quella foratura e sembrava che fosse incanalata verso Z Promauro e poi il colpo di scena le gomme da asciutto sulla pista che continua a piovere si diciamo che la gara ha vissuto tanti turning point decisivi uno di questi più che altro è stata la pioggia decisiva perché il fatto che continuasse a cadere ma che non bagnasse più la pista ha scombinato completamente l'esito della gara in pugno ce l'aveva Z Promauro comunque con la strategia ottima che aveva fatto e invece poi dopo alla fine ha dato ragione a Birillo Dog che però bisogna dare atto quando poi la pista comunque è diventata umida e bisognava stare molto attenti ha aumentato il gap è riuscito a prevalere rispetto ai suoi avversari e è andato poi meritatamente a vincere il Gran Premio si è stato veramente tanto tanto bravo Birillo un po' di rammarico ne escono dai piloti che fin qui abbiamo definito la batteria centrale come la batteria di testa come Z Promauro Dragoli ha evitato uno spento da Loizzi ma che comunque è riuscito a portare a casa un punticino poi si vedrà per il giro veloce che sarebbe un punto bonus in più è Just Loller che diciamo chiude quest'anno in questa Pro League non benissimo speriamo che la sosta in questo momento che ci sarà per l'anno nuovo per il Natale e tutto il resto gli porti consiglio io intanto chiedo se qualcuno può invitare i primi tre così andiamo prima di abbandonarvi allora intanto io faccio una cosa e sono sicuro che il buon Raffa apprezzerà intanto valuta ricevuta è sei anni che ho questa notifica ma nessuno mi dà mai niente della Codemaster chissà se questo aspetto con con l'avvento di di sarà ancora più marcato con il pass podio e tutto il resto ne parleremo magari un'altra volta intanto aspettiamo i piloti che stanno arrivando è arrivato Z Pro Mauro in questo momento e dovrebbe arrivare anche a breve birillo Mauro molto bene molto bene o come sempre poca voce intanto salutiamo il buon Marco Lucconi che è andato in parte a raccogliere le emozioni e le cose da dire dei piloti a caldo per tentare di cercare di capirci un po' di più su quello che è successo alla fine abbiamo visto un bug con la Virtua Safety Car che entrava ogni due giri è successo per tre volte poi fortunatamente si è sistemato tutto anche perché era molto molto difficile soprattutto gestire la temperatura degli pneumatici ogni volta si andava a rallentare per mantenere il delta positivo proprio della Virtua Safety Car quindi questo comportava un minore riscaldamento degli pneumatici e una minore aderenza di conseguenza arriva anche Mauro Gold e quindi manca solo Birillo il vincitore di questo Gran Premio del Canada ultimo appuntamento dell'anno per la Pro League sta ancora festeggiando credo di sì perché comunque seconda gara consecutiva vinta penso che sia molto molto contento eccolo qua è arrivato anche Birillo Dog quindi Birillo ti ritroviamo di nuovo qui dopo la vittoria di Baku seconda consecutiva è stata una gara pazza perché avevamo visto le previsioni all'inizio e davano sempre pioggia e poi alla fine c'è stata la svolta per le gomme d'asciutto è stato incredibile dici come hai vissuto questa situazione diciamo che proprio durante la gara in quei giri vedevo le mie gomme usurarsi troppo poi con Nicola che ringrazio che mi fa sempre da ingegnere non capivo il problema i tempi erano molto buoni a un certo punto avevamo capito che si stava asciugando la pista perché stava smettendo di piovere e io volevo rientrare anche tre giri prima il problema è che ero davanti e non te la puoi rischiare in quel modo poi volevo rientrare il giro prima rispetto a quando c'è stato effettivamente il DRS abilitato proprio perché l'ingegnere diceva non sappiamo se sono meglio le asciutto o le intermedie poi vabbè DRS abilitato entri metti le medie ho rivisto il ridicolo che ho visto nel 2017 in Russia il problema è che in Russia ero in master ed ero dietro stavolta ero avanti e diciamo era un po' più giocabile rispetto a Russia però eh sì l'abbiamo visto in questa gara anche se spezzo una lancia a favore la pista effettivamente si vedeva che si era asciugata e più aveva di meno quindi ci potrebbe stare che magari la pista non è abbastanza bagnata e tu quindi le gomme d'asciutto vanno meglio ci potrebbe stare dai non è al livello di Russia 2017 beh però c'è alla fine diciamo dopo questa situazione c'era stato anche il bug della virtual safety car che proprio in Russia 2017 dopo ogni due giri entrava una virtual là era una safety car qua è una virtual quindi bene o male hanno mitigato sì 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 a un certo punto pensavo uscisse ogni giro ho detto ma così va finita la gara se no non ha senso cioè si rischia il drive-throw ogni volta per niente molto bene andiamo poi ti faccio una domanda ma dopo prima passiamo al secondo classificato Mauro Gold lo ritroviamo qui il pilota della McLaren Mauro hai fatto una gara di attacco per tutta la prima parte su Alessi ma era veramente tanto difficile passare anche perché lui abbiamo visto si difende molto bene sappiamo quali sono le qualità di Alessi e poi ovviamente non c'era il DRS poi quando è arrivata forse questa manna dal cielo per te il DRS abilitato poi non hai non hai più esitato e sei riuscito a passare il pilota Ferrari sì innanzitutto buonasera sì diciamo che già in qualifica ho fatto un discreto giro tra Nel TT dove ho perso parecchio su tutti forse sono stato un po' troppo cauto nell'ultima chicane in partenza i primi giri ho fatto una fatica incredibile penso che erano le gomme troppo fredde forse non sono riuscito a scaldarle bene infatti mi sono ritrovato tipo nono decimo dopo 5-6 giri ho iniziato a prendere il ritmo e niente è stata una bella lotta con Alberto Alessi ho passato sia con le gomme intermedie poi quando siamo rientri da mettere quelle da asciutto ho perso di nuovo la posizione su di due ibox e quindi ho dovuto ripassarlo con le slick sempre nello stesso punto e niente poi per quanto riguarda i due diciamo contatti con Zpromauro in entrambi i casi io penso di aver lasciato lo spazio sia nell'ultima chicane dove si è buttato un po' all'ultimo quindi ho visto la freccetta ho largato un po' però ho visto che lui forse ha fatto cioè mi ha toccato un leggermente non lo so nella seconda occasione lì in prima curva io anche lì ho lasciato lo spazio per fare la curva in due e penso che lui forse è arrivato un po' un perino lungo comunque è stata un'ottima gara è un ottimo secondo posto sì anche perché la situazione in classifica come dicevamo ad inizio telecronica è veramente molto molto corta tu eri in quarta posizione 85 punti e sei diciamo dei primi 4 sei il primo il primo classificato oggi quindi recuperi i punti riesci a pensare magari a qualcosina di più a riuscirti a giocare magari la vittoria oppure Just, Drago e Dadoizzi ne hanno di più in questo momento gli va tutto storto allora secondo me in alcune piste me la posso giocare per la vittoria però in alcune piste tipo Baku Canada queste qui di recenti diciamo che non mi sono mai piaciute particolarmente quindi faccio un po' più di fatica spero che nelle prossime tipo non so Paul Riccardo però sicuramente Austria o Silverstone spero e penso di giocarmela per la vittoria poi per quanto riguarda il titolo siamo tutti lì e vediamo però non penso di essere il favorito anche proprio come velocità va bene molto bene grazie Mauro passiamo all'altro Mauro Z Pro Mauro che torni tra virgolette sul podio è stata una gara difficile ovviamente per le condizioni e per i nervi credo anche cosa è successo poi alla fine buonasera alla fine mi ha detto Talze guarda non attaccare perché arrivi secondo io dico sì 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 ok il giro dopo vado su Mauro e rombo l'ala maledetto me purtroppo inizio di gara tramite una safety car e perdo quei 10 secondi accumulati di passo sugli altri e non sapevo se rientrare o continuare però ho continuato però come si è vista è stata la scelta sbagliata siccome si sono fermati tutti quanti e da lì è tutto andato verso giù perché ho rotto l'ala e ho dovuto passare due o tre piloti poi Rambo come al solito si è difeso alla morte però alzo le mani non mi ha fatto niente e niente questo terzo posto mi dà un po' di amare in bocca sapendo di essere partito in ball e sapendo di avere il passo per vincere molto bene a te faccio la stessa domanda che ho posto a Mauro classifica cortissima e avete comunque tutti quanti fatto delle vittorie delle belle prestazioni però in questa classifica corta secondo te è meglio essere tanto costanti arrivare magari terzi tutte le gare oppure magari tentare rischiare qualcosina per la vittoria per vincere qualche gara in più e guarda secondo me è un misto tra entrambi essere molto costanti e puntare anche alla vittoria quando si può quando non si può porti a casa è possibile molto bene molto bene allora andiamo a fare la domanda a Birillo Birillo io avevo una domanda per te e diciamo che può essere espandibile anche a tutti gli altri mi sto un attimo offendendo io perché hai fatto tutti la domanda sul tiro no perché a te no perché a te proprio la volevo pompare fuori più no arrivi con due arrivi con due gare vinte praticamente consecutivamente ti senti il passo per potertela giocare oppure là davanti in questo momento come ho detto prima Mauro li sta andando semplicemente tutto storto e magari riuscite a raccimolare qualcosina allora a parte del presupposto che la gara non l'ho vinta bisogna vedere i giri richiesti tagli in gare soprattutto devo farmi reclamare devo reclamare 15 secondi che mi ha dato il gioco 5 quando Ganu mi ha tamponato e 10 per Fleming che io ho capito che tu devi tapparmi perché c'è il tuo compagno di squadra davanti insomma e quindi devo vedere un attimino se rimango primo per il resto io la mia approccia l'ho già vinta sapevo perfettamente che durante il campionato sarei andato solo a migliorare perché non corro da due anni e adesso il mio passo comunque sta migliorando per il resto le ultime gare andavo forte in Spagna sono arrivato secondo poi 4 l'attaguardo a Monaco c'avevo il passo e lotto cioè mi alleno con uno che lotta per il titolo però preferirei che lo vincesse il mio compagno di squadra se devo scegliere se no non me ne privo molto bene molto bene domanda per tutti e tre propositi per l'anno prossimo dato che questo è l'ultimo appuntamento dell'anno concretizzare la poll migliorare migliorare Birillo disinstallare F1 perché mi ha rotto molto bene molto bene allora io vi ringrazio andiamo a vedere chi ha vinto il sondaggio del Driver of the Day su 13 voti che ci sono pervenuti sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel la vittoria arriva con il 31% a Mister X 1-1-2-2 quindi vince proprio il Driver of the Day il pilota della Mercedes secondo Drago Limitato al 23% terzo da Doizzi e qualche voto anche per Z Pro Mauro Mauro Gold decartista io ragazzi vi ringrazio e vi lascio andare con Mark e Andre grazie mille Birillo grazie a voi ragazzi buona serata grazie Mauro Mauro Gold grazie a voi buone feste e grazie Z Pro Mauro siamo in conclusione io ringrazio il buon J Sport che ha fatto un grandissimo lavoro e mi ha supportato stasera come seconda voce grazie a te Andrea buon Natale buon anno a tutti salutiamo anche i due direttori gara Andrea Badolato e Marco Luconi per il lavoro svolto questa sera salutiamo tutta quanta la chat e con la Pro League ci rivediamo l'anno prossimo quindi io colgo l'occasione per farvi gli auguri di un buon Natale di un felice anno nuovo cerchiamo di rimanere tutti uniti anche se non si non si può ovviamente nella realtà magari virtualmente si potrà fare qualcosina quindi cercate di passarlo nella maniera più felice e più serena di tutte io vi ringrazio vi do la buonanotte a nanna presto solo se è fit non è in live ciao 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 ciao